Ciao, siamo in pieno centro a Lugano all'Hotel Ceresio. Ed è qui che ci siamo dati appuntamento l'11 di dicembre alle 20 per costruire insieme la nostra campagna elettorale. È una fredda sera di dicembre e abbiamo deciso di cominciare qui la mia campagna e la campagna per il Consiglio di Stato incontrando le persone, incontrando la gente e ascoltando la gente. E questa è una cosa che vorrei fare frequentemente, vorrei organizzare altri incontri come questo. Cioè io avrei bisogno veramente che organizzassimo degli incontri con delle persone. Niente di speciale, ci si trova intorno a un tavolo, in un'osteria, cose del genere. Io voglio andare anche in posti, ovviamente siamo in cinque, ma a sentire le persone che cosa vogliono dire. Cosa pensi di Sergio Savoia? Penso che sia una persona veramente molto alla mano e molto vicina alla gente e soprattutto ai problemi della popolazione ticinese, all'ambiente e al lavoro. Sono qui perché crede in Sergio, perché lui crede nei giovani e crede soprattutto nelle persone. Perché mi piace come si esprime, perché sento che mi difende, sento che difende i cittadini ed è questo che abbiamo bisogno. Forse un po' dal passato radiofonico, con le sue storie così, ma il carisma di essere, è come sentire la tua pancia che parla, con un vocabolario più arricchito. Perché è propositivo, non è contro ma è per. Se non volete iscrivervi, non vi iscrivete, io vi voglio bene lo stesso. Però se vi volete iscrivere, vi voglio bene lo stesso, ma un pochino di più. Vi ringrazio tutti per essere venuti questa sera, sia i verdi, sia i non verdi, sia quelli che sono diventati verdi stasera. Grazie. 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 Grazie.